Uno strappo forte che lascia il segno, Michele Iorio e Aida Romagnolo fuori dalla maggioranza in calce dal cartellino rosso sventolato in faccia all'ex governatore. Ci sono le firme di Andrea Dilucente, Quintino Pallante e Salvatore Micone. I tre hanno presentato al governatore Toma un documento in cui lamentavano le sparate ioriane degne del miglior grillino. O lui o noi avrebbero detto nel corso della riunione di maggioranza di lunedì scorso in sana giunta Palazzo Vitale con il supporto dell'assessore Vincenzo Niro in guerra totale con l'ex governatore e non solo per la riforma del TPL che per Iorio distruggerà il Molise. Il presidente Toma e il consigliere Cefaratti hanno provato a mediare, a prendere tempo, ma le colombe bianche sono state schiacciate da chi ormai aveva deciso che la convivenza non potesse più andare avanti. Nulla di personale ma la necessità di trovare nuovi equilibri per dare nuovi impulsi all'attività amministrativa. Iorio non c'era, da tempo non partecipa e non viene chiamato alle adunate. Il resto della comitiva non ha battuto ciglio, una sorta di silenzio assenso che ha sancito la rottura oro ufficiale tra due parti che non sono mai andate d'accordo. Troppo ingombrante la figura dell'ex governatore per rimanere nelle retrovie ed essere trattato come un consigliere qualunque. Iorio non ha mai nascosto di non sentirsi a suo agio in un team che sin dall'inizio e ha negato l'inevitabile ruolo di leader. Ha chiesto di fare l'assessore, di entrare nella stanza dei bottoni, appelli caduti nel vuoto e così è passato all'attacco. Non è mai stato tenero con gli ex alleati ma l'altro giorno ha sparato forte, troppo forte come a volersi smarcare dall'operato di una giunta che non ritiene all'altezza della situazione. La maggioranza nel frattempo era già passata al contrattacco. Il documento che Iorio durante l'ultimo consiglio regionale ha definito sgradevole ha messo il governatore con le spalle al muro. Toma perde due pezzi e ora ha una maggioranza resicata. 11 voti a disposizione contro i potenziali 10 della minoranza ma forse più compatta.